Grazie a tutti Ma è più alto, ciò che si deve pregiare, se il quattro scegliere un'altra, si deve pregiare, vusse Vizvića, Srakinja, in Ibinato e Pajano, a Vizviće, è molto più alto. Il primo giallo, no, Johnny, vedi la luce, non c'è il giallo. Siamo sentito. Siamo sentito. agresiva da una prima volta, la fine di migrazione, la fine di migrazione, la fine di migrazione, la fine di migrazione, la fine di migrazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!